Le istituzioni devono essere conosciute e rispettate, bisogna conoscerle, bisogna leggere la Costituzione, imparare a praticare questo terreno delle regole costituzionali e democratiche. La Costituzione guarda al futuro e strizza l'occhio agli studenti grazie ad una iniziativa che fa il Giro d'Italia che ha fatto tappa all'iscio scientifico Da Vinci di Maglie. Quello della scuola è un mondo vivo che merita rispetto e attenzione, ha detto la Presidente Silvana Sciarra. È stata un'occasione per conoscere da vicino il ruolo della Corte Costituzionale, organo di fondamentale importanza che ha il compito di dirimere i conflitti di attribuzione tra i vari poteri dello Stato e di verificare la conformità alla Costituzione delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Io direi che l'equilibrio dei poteri fa parte della nostra cultura come giuristi ma anche come soggetti che operano nelle istituzioni, i rappresentanti eletti in Parlamento, dobbiamo avere questa cultura dell'equilibrio dei poteri. Certamente ci sono momenti in cui questo rapporto fra le istituzioni si misura con delle modalità diverse ma sempre rispettose degli equilibri democratici, dei fondamenti del nostro Stato di diritto. Un ritorno nella sua Puglia per la Presidente originaria di Trani, felice di essere nella città che ha dato i Natali ad Aldo Moro. Aldo Moro è stato il professore di mio padre, mio padre si è laureato con lui, quindi mi fa piacere essere qui, davvero sono anche molto commossa. Il viaggio della Corte Costituzionale nelle scuole italiane, iniziato nel 2018, ha ripreso a correre quest'anno. Serve a far accrescere tra i ragazzi la consapevolezza delle funzioni che la Corte esercita a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali, a far comprendere loro l'incidenza della giurisprudenza costituzionale nella vita delle persone e ad avvicinare in particolare i ragazzi alle istituzioni. Certo, è anche la loro vita attiva come cittadini, intanto come studenti, come cittadini già ora e come soggetti portatori di interessi, di idee, di proposte, mi auguro. All'incontro erano presenti anche, oltre a numerose autorità, la dirigente dell'Icio da Vinci, Anarita Corrado e il direttore dell'ufficio scolastico regionale pugliese, Giuseppe Silipo.